San E io sono Allora a parte che il video lo sto facendo Oh si ci sentiamo cavolo Stiamo in proprietà al gioco Allora comunque ragazzi Incominciamo questo video Sono PeppeGiogamers E siamo su GTA online Con ospite And No smile Allora raga io ve lo ripeto Senti un attimo titolo Allora raga io ve lo ripeto Non so se lo sentite Il vostro smile Il vostro smile Turla come se non ci fossero domani E vediamo se cavolo ci sentiamo Però credo che in proprietà al gioco Ci dovremmo sentire Credo raga Poi se non ci sentiamo raga Scrivetemelo nei commenti Così Vi aiutate Come cavolo si saltava? Come si salto? Ah si vero giusto No Però come ho saltato? Come ho fatto a saltare? Ah giusto vero vero Con l'R1 giusto E con l'R2 si spara Si mi ricordo bene No no mi riuscì di spara e come? Caravino mio Oh cavolo Ho detto non ci spariamo Vabbè oggi spara Vabbè Vabbè Andiamo a tirare Vabbè Lo stesso anche per voi ragazzi Che ha detto il vostro smile C'è sempre non pensato Sto parlando solo Ci scommetti? Poi ragazzi Questo qua È il Secondo video Della giornata Credo che si carichino Anche questo in giornata Perché non lo so Comunque Dai io quando lo faccio il video Poi ci mette Tre quattro Tre quattro Allora Oh ma non parlare Insieme a me Se non si capisce un cazzo Aspetta Allora Comunque Stavo dicendo Porca di que Che cazzo è? Cioè ma qua sembra Uno che ha vomito Allora Non so che cosa Ma in questa cosa Ma in questa cosa Ci sono tutti i container Che potete trovare Su GTA Bang della bici Bang della bici Bang della bici Bang della bici Vai No 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 Cazzo Vedete il container Raga Ho preso i checkpoints Ehi Perché non facciamo Una gara Parkour Scendiamo dalle bici C'è una parkour Vai Va bene Sì Dai Esplosione Totale Ehi Lici Lici Che cosa ti devo dire Bella Lico Bang della bici Bang della bici Non siamo morti Raga Stradissimo Il fattuccio Il fattuccio Cio 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 Cioè ma vuoi dire Che siamo arrivati Già alla fine della gara Non ci credo Siamo appena Quattro minuti Salta Salta Beh Allora Tu credi Che Soltanto Con un semplice Eh sì Lo so Lì Non ci sono Un caldo Basta Non ci faccio più E Po Po E Ok Oh 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 Eh vabbè Qua Non si può fare un cavolo Senza L'auto Eh senza L'auto Cazzo dico Allora tu sei morto Io no Come si fa a farci indietro No Sto sparando le contine Levati Ah ecco come si torna indietro Ecco Salta No 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 Aspetta Allora Non cadere Aspetta Qui non ci spariamo Prendiamo una bella rincorsa Levati Levati Andiamo una alla volta Una alla volta Ma perché non salta Salta personaggio Salta personaggio Salta personaggio No 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 Fermo 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 Qui Fermo Qui Allora qui Non ci spariamo Neanche di una mitra Perché No 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 Non cadere Non cadere Prendi la motocicletta E ritorniamo Indietro Prendi la motocicletta E ritorniamo a vedere Lo so che vedi Nella bocca Del mio personaggio No Vai No Perché Perché No È impossibile È impossibile Come Come l'hai fatto Come l'hai fatto Dai Aspetta Vivo Ma Ci sei arrivato Il check No Te l'hai Prendi il check Boy Dai Dai È impossibile Sì Eh ma Ho fatto Non so Il personaggio No No Allora ragazzi È possibile Ce la possiamo fare Il vostro smile Ce l'ha fatta Spero che lo sentiate No 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 È impossibile È il mio personaggio Che è devente O Non so Che cazzo Dio Ragazzi Non so Se Con questo video Ce la faccio O 15 minuti Sono passati Però Non sono passati 15 minuti Non sono passati Non sono passati Via 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 salta no non ritorno è impossibile se dovrebbero fare dovrebbero mettere le perle su gt5 allora adesso ti prego fammi una cortesia ritorna indietro e fammi dire come faccio no vai 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 no no è impossibile basta è impossibile ce l'ho fatta ce l'ho fatta no 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 non ce l'ho fatta affanculo è impossibile no è impossibile cazzo fuori allora ti prego tieniti una cazzo di mano in mano e porca di quella manca di salva di salva bravo personaggio salta personaggio ci salta quando io dopo tre anni che l'ho premuto il pulsante salta no assicurato bene del mio fratello in realtà non è il mio fratello salta salto ma raga è impossibile comunque vi ripeto come video precedente se volete in descrizione il nome di queste gare per chiedere la prestigio non come del concorso c'è chiedere di te online io lo scrivo ragazzi ci riesco più un cazzo che cavolo è la? che cavolo è? ma che è fra 5 minuti? fra 2-3 minuti? perché la siamo partiti più tardi? no salta lago questo è nessun'impossibile no perché non salta? il mio personaggio è demente demente il mio personaggio salta salta allora adesso tu vieni a prendere qui la mia bicicletta ah no vabbè non si è secca niente la bicicletta se almeno si potesse fare lanciando una bomba e ci si fa esplodere tutto non ce la faccio più non ce la faccio più vabbè tu finisci la se la vuoi finire che ti devo dire raga se finiamo se non riusciamo a finire questa gara facciamo parte 2 non me ne fotte faccio 4 video non me ne importo un cavolo ne faccio 4 di video non si potrebbe fare a piedi? no è impossibile a piedi eh non si arrampica e non si arrampica e non si arrampica non si arrampica e fai spiderman cazzo si 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 no no ohh già PERCHE? vabbè fra proposta vabbè ragazzi siamo arrivati alla fine del video come sempre ogni video se volete iscrivetevi Lasciate un commento Un bellissimo pollicione in su C'è un like O mi piace o quello volete chiamare Condividete il video E ragazzi ci rivediamo Al prossimo Video Che arriverà adesso Fra pochettissimo Adesso pubblico questo video Cominciano subito un altro